Gesù inizia la sua missione dalla Galilea, una zona periferica, una terra di frontiera, e ci insegna che la buona novella non è riservata a una parte dell'umanità e da comunicare a tutti, perché nessuno è escluso dalla salvezza di Dio. Così Papa Francesco ha commentato questa mattina, prima della preghiera dell'Angelus recitata in Piazza San Pietro, il Vangelo di questa domenica. La Galilea ha spiegato assomiglia al mondo d'oggi per la compresenza di diverse culture e Gesù ci chiede di non costruire recinti per proteggerci, ma di partire come lui dagli ultimi, per raggiungere tutti, anche quanti forse non attendono più nulla e non hanno nemmeno la forza di cercare e di chiedere. Lui comincia la missione da persone umili e semplici, pescatori, li chiama e lo seguono subito. E chiama anche noi oggi, ha aggiunto Papa Francesco, passa anche oggi da questa piazza. E se qualcuno di voi sente che il Signore gli dice seguimi, sia coraggioso, vada con il Signore. Dopo l'Angelus il Papa ha ricordato la giornata mondiale dei malati di Lebra, che si celebra oggi chiedendo di proseguire nella solidarietà contro un morbo che purtroppo colpisce ancora molte persone in condizione di grave miseria, poi ha pregato per le vittime degli scontri in Ucraina, auspicando l'avvio di un dialogo costruttivo tra istituzione e società civile. In chiusura, come da tradizione, nell'ultima domenica di gennaio, ha salutato i 4.000 ragazzi e bambini dell'Azione Cattolica di Roma in piazza per la Carovana della Pace, affiancato da due di loro con lui alla finestra del suo studio. I due ragazzi hanno liberato due colombe, simbolo di pace.